Luca Mercuri, davvero una domenica trionfale per voi, applausi da parte di tutto il pubblico, non soltanto la Curva Volpi. Beh sì, è stata una bella vittoria, siamo contenti soprattutto per i tifosi perché se lo meritano, ci hanno sempre supportato e sono sempre qui allo stadio. Sono due anni che sto qui e è un tifo magnifico, quindi siamo contenti che ci deano il loro calore. Sicuramente la partita per voi si è messa in discesa con la prima ma anche e soprattutto con la seconda espulsione perché loro, anche se voi avete già segnato un gol nel primo tempo, nella ripresa qui 7-10 minuti sono stati un po' difficili per voi, poi la seconda espulsione chiaramente vi ha spianato un po' la strada, però è sempre difficile mantenere la concentrazione alta. Beh sì, in questo campionato le squadre sono forti, anche il termine ha individualità importanti come Bursio, Esposito, ha giocatori forti, però noi abbiamo fatto il gol e poi abbiamo pensato a stare compatti perché avevamo la consapevolezza che avremmo potuto fargli male al di là delle espulsioni. Ecco, possiamo dire che Luca Mercuri con Pasquale Luiso si sta ritagliando il giusto spazio perché sei davvero uno dei più positivi lì davanti, forse hai anche un po' di rabbia in corpo, no? Beh, diciamo quando non si gioca poi è difficile, quindi poi le cose ti rimangono e cerchi sempre di dimostrare poi quando hai la possibilità. Il mister lo ringrazio perché mi ha dato una grande opportunità e sono felicissimo, anche per lui che comunque sta facendo risultati. Insomma, lì davanti con Fall, con Salvatore, ma con tutti i compagni direi, ti trovi benissimo? Sì, 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 soprattutto davanti abbiamo giocatori forti, anche chi non gioca come Gatto, Mancini, stesso Ardemagni, Sueva, siamo una grande squadra e sono contento per tutti perché le vittorie fanno bene, aiutano a vincere, anche chi sta fuori magari può, diciamo, entrare e fare i gol come ha fatto Alessandro, ecco. A proposito di gol, non hai segnato però nel primo gol hai gran merito perché hai rubato palla e poi hai saltato due giocatori del Termole, hai messo dentro questo pallone su cui è stato molto bravo Salvatore. Sì, diciamo, quando ho un po' di campo cerco sempre di sfruttarlo al massimo e poi sono riuscito a vincere un rimpallo, ho visto subito in mezzo perché so che falle Salvatore ci sono sempre, ho provato la palla dentro e è andata bene per fortuna. Un'ultima cosa, Luiso dice che non guarda la classifica, voi invece credo che la guardiate, è ancora possibile l'obiettivo playoff, avete accorciato da quattro a due punti, insomma queste ultime quattro gare diranno poi la verità, no? Su questo chiede. Sì, siamo contenti, in effetti ragione il mister, noi nemmeno noi guardiamo la classifica, pensiamo partita per partita perché solo così si fanno grandi cose, quindi già pensiamo alla prossima e a dare tutto. La prossima è un derby. Eh sì, è un derby, però per noi tutte le partite sono uguali, noi ce la mettiamo tutta sempre.